Ora so come giocare uno smoker in modo aggressivo, ragazzi ma se dico aggressivo è veramente aggressivo Perché in questa partita faccio più di 35 kill Non vi ricordo quante kill faccio quindi vi dico più di 35 kill perché mi ricordo che è più di 35 kill Vi raccomando io vi invito prima del video a cliccare qui sotto la beta di Valorant Se volete giocare in anticipo agli altri e soprattutto di lasciare un bel like e un bel commento Ma passiamo direttamente al secondo round perché come sempre io i primi due round li schifo Perché pistolina e buff non mi piacciono Qua vediamo come sempre ragazzi vi consiglio di sparare nelle smoke Soprattutto se sono stati lì poco tempo fa e soprattutto se stanno per entrare Perché io vi giuro che prendo 5-6 kill a partita tramite smoke o tramite muri Vi giuro su chi volete ragazzi Due kill siamo già in questa partita Segniamo quante kill prendo nelle smoke Siamo già a due kill Qua ho voluto troppo perché sono un cojone e voglio andare a cazzo duro E vaffanculo ho preso il cazzo Però ne avevo portato già due Abbiamo vinto il nostro bonus Perché questo è il nostro bonus Vi ricordo che vincere il bonus è una cosa importantissima O togliere almeno più armi possibili Perché il round dopo gli avversari non avranno armi O non avranno soldi per comprare Questa è se non mi ricordo male una partita abbastanza tosta Perché tipo non vi spoilerò il risultato finale Ma arriviamo veramente il culetto un po' ristretto Perché comunque studiamo Qua me ne chiamano uno mid però purtroppo muoio Però sono morto comunque in una buona posizione Perché posso mettere comunque le smoke Cosa che non servirà Perché tanto è uno contro tre E morirà Quindi all'hacky questo round L'ho sbagliato soprattutto io Perché me l'hanno chiamato il ragazzo mid Ma comunque sono morto Come vedete Io metto sempre una smoke Sul quel muretto Perché così Andre In questo caso Rena Ha sempre un vantaggio Almeno inizialmente Infatti ha preso subito una kill Perché si possono mettere delle smoke dove si fanno vedere solo i piedi Qua ulto Ragazzi qua se non sbaglio faccio il panico Vediamo No ne prendo uno Quindi resto in vita Eh no in realtà no Prendo il cazzo A questo punto non so se è questa la partita di 35 kill o no Però speriamo di sì Siamo sul 4 a 1 Come vedete sempre solita tattica Metto la smoke per lui In modo tale che se ne prendo uno o due O comunque prende informazioni Perché questo gioco vi ripeto È solo fatto di informazioni Il ragazzo qua mi ulta La ulti che dicevo prima Non mi ricordo se la vinco o meno La vinco Però comunque sono morto in una posizione Non molto comoda Perché purtroppo Anche se vinci l'uno contro uno Comunque spawni sul posto Qua Martina Prende una kill E soprattutto fa danno Anche all'altro avversario Quindi ha fatto una giocata Buonissima Questo lato lo dovremmo vincere senza troppi problemi In realtà lo perdiamo Andre è stupido Perché va a cercare le kill Io vi ricordo ragazzi Che in difesa Non bisogna andare a cercare le kill Anzi Devono venire loro da noi Solo alcune volte si fanno play Molto rischiose Ma ci sono determinati fattori Che ti fanno decidere di fare quella cosa In questo caso Andre non doveva pushare assolutamente Qua cerco comunque di aiutarli Mettendo le smoke da morto Qua è il piove di oro Cioè Giuseppe Killa Ed è molto bravo E purtroppo si fa killare Da Slims Slims Lady 2009 Qua cambio di programma Come vedete Mi chiamo tutti i mid Metto una smoke sopra a sinistra Perché metto quella smoke sopra a sinistra Perché noi stiamo spingendo Verso il mid Con quella mi copro E intanto vado a piccare Tutti i ragazzi a destra Ok Che comunque Stavamo a minico Come ho detto prima Solo in alcuni casi Andiamo a pushare E in questo caso Stavamo a minico Non avevamo armi Andiamo a pushare Direttamente Gli avversari Tanto non abbiamo nulla da perdere Al massimo Ci riesce il push Scusate Mi sono bloccato il cervelletto E prendiamo armi in più O togliamo armi Che è comunque utile Stessa tattica Smoke Ad arena Perché così Comunque Ha sempre il vantaggio Martina mi dà le informazioni Ne ho sempre qua Quindi su B Quindi le chiamo Ti serve una smoke Lei mi dice sì E quindi le mettiamo la smoke Questo è più o meno il lavoro Dello smoke Deve stare sempre attento A quello che dicono gli altri In questo caso Io mi metto a destra Nessuno mi vede Situazione di prima Mi riprende di non Nell'uno contro uno Lo rivinco In questo caso Sono in una posizione bruttissima Però I miei amici mi coprono Una volta che vedo Che sopravvivo Picco a destra Perché ho informazioni Sulla minimappa Che lui vuoi ora In questo momento Non vedete Di killjoy La prendo Vedo il fuoco a terra Quindi Phoenix può stare E deve stare Solo a sinistra Mi acceca Non riesco ad aschivarla Però comunque sparo Perché mi raccomando Non state fermi Anche se vi accecano Non state fermi Fate qualcosa Se sparate nel tempissimo giusto Probabilmente Lo killerete Anche perché Nel momento che vi acceca Il vostro mirino Comunque è posizionato Bene Quindi mi raccomando Posizionate sempre il mirino Bene Perché può essere Un vantaggio Anche da non vedenti Passatemi il termine Vediamo indirettamente Invece questo round Sto giocando Una smoke Che mi hanno messo l'oro Perché magari Non si aspettano No ok Vado dietro Si toglie la smoke Aspetto l'info Della torretta Vedete che ho una torretta a destra Aspetto l'info Di quella torretta Vedete Mi rompono la torretta Smoke davanti Perché così Loro non hanno le informazioni Di che sa Né a sinistra Né a destra Se c'è qualcuno Mid Se non c'è nessuno Direttamente smoke Se vogliono prendere informazioni Devono passare quella smoke Quindi Io li vedo prima Se tu esci dalla smoke Io fuori dalla smoke Ho un grande vantaggio E ha bisogno di aiuto Quindi gli smocco a Ragazzi Essere lo smoker E vedere la mappa A 360 gradi Nel senso Devi stare veramente attento A tutto quello che succede Nella mappa E soprattutto Devi avere amici Che parlano Perché se gli amici O compagni O teammates Di squadra a caso Non parlano È veramente difficile Smoccare per gli altri Qua fortunatamente L'avversario mimista O meglio Aveva una pistolina Io avevo un vandal Mi ha aiutato una volta Ma non mi fa un granché Qua ne sento uno Comunque faccio 119 Martina Fortunamente Gli fa comunque Headshot Qua ho detto Martina urta Martina urta Però comunque Non mi ha sentito E Slim Slate Ragazzi Sta clacciando di nuovo Uno contro uno Qua comunque Da morto Il mio personaggio Può mettere le smoke Quindi decido di Comunque Aiutarlo Perché come ho detto prima Se mettiamo le smoke Ha comunque il vantaggio Purtroppo Non sente che si butta dietro L'emico Fa tutto il Fa tutto il giro E ha lucky Qui siamo direttamente Sull'8-8 Il bro si è messo Più volte in mid Quindi già lo sapevo Che aveva la stessa Posizione Come avevo detto prima Ogni tanto Cambiate posizione Perché Me lo fai uno Me lo fai due Me lo fai tre Primo o poi Imparo Qui Sparo ragazzi A culo E lo prendo Come dico sempre Sparate attraverso i muri Sparate attraverso le smoke Sparate attraverso tutto Come vedete Dico aspettate Frizzate in A Perché io sto flancando In short Nessuno se lo può aspettare Perché Ci hanno visto in 3 In 4 Direttamente su A Come vedete Qua sento Il bro che stava distruggendo Perché noi Non gli abbiamo dato più Nessuna informazione Non su un passo Non su sparo Nessuna abilità Quindi il bro pensava Che avessimo ruotato L'ultima informazione Infatti era Che noi tornavamo indietro Ma indietro per dove Per short di nuovo Qui andiamo nel 2 a 2 Vedo la smoke Gioco Attraverso la smoke E mi faccio Un altro ace Come detto Queste partite ragazzi Sono sontuoso Sono mostuoso Faccio veramente Un botto di kill Qua Kaido Si prende Un 1 contro 1 Lo vince Ve lo dico io Anche se Non l'avete visto Quindi ha usato La sua ulti Quindi abbiamo informazione Che c'è Uno in meno Su A Perché Kaido Stava su A Qua metto Le smoke Per non far vedere Gli avversari In rotazione E quindi Andiamo a fetare Direttamente il player Che stava in site Kaido Se ne prende Un altro Durante la rotazione Che è molto ottimo Qua sento Un ragazzo Che chiude la porta Quindi ho l'informazione Che sobrò Sta qui dentro Qua sono un po' In una posizione Di mer Qua io non capisco Come non l'ho ucciso So sincero con voi Il player Non mi viene a prendere Non si sa Cosa ha fatto Quell'altro Urta pure lui Lo andiamo a prendere No Andiamo via Non andiamo via Perché purtroppo Kaido muore Però qua la cosa giusta Da fare qual era Andare via Perché La clove Contro Muriva al 100% Perché stava in ulti Vi spiego In ulti Se non fate un assist O non killate nessuno Dopo 8 secondi Schiattate di nuovo Quindi Era meglio Andarsene via Il La clove contro Non prendeva nessuna informazione E noi vincevamo Qui mi trovo In una situazione Di 2 contro 1 Quindi cosa faccio Loro mi danno L'informazione Che sta andando Uno a sinistra Uno a destra Quindi cosa faccio Me ne porto solo uno a destra Vedete come sto a destra Dietro questo muro Non vuole Bangabile Non so parlare Perché così Quella a sinistra Non mi vede Il ragazzo a destra Mi esce So che sta venendo Quella a sinistra So che è già passato Gli voglio far perdere tempo Però purtroppo Mi uccide In un modo Molto ambiguo Ma mi uccide Però La play Vi ho spiegato la play Perché è una play Comunque molto forte Perché In questo caso Loro hanno sbagliato A dividersi Ma dovevano andare Tutti e due insieme Perché Frago Clove Killjoy Mi refragga Invece così facendo Uscendo una la volta Da due punti Differenti Io che già l'avevo capito Potevo vincere il round In modo In modo molto facile Però Non è stato così Perché purtroppo L'avversario Non si sa Salta il canguro E vince lui il round Qua siamo sul 19 Decidiamo di optare Di nuovo per mid Però questa volta Non sono solo io a piccare Ma un po' tutti Però purtroppo Ragazzi Un po' tutti Però i miei amici Non hanno piccato Nel mio stesso momento E quindi Essendo uno contro uno Posso perdere Invece Se avesse piccato Qualc'altro compagno Insieme a me L'avremo sicuramente ucciso Qua Sage fortunatamente Mi resta Prima di morire E copre il mio body Quindi Andiamo in una situazione Di due contro due Abbiamo fetato tanto mid Di solito Non si fa O comunque Non escono così Tanti avversari mid Siamo su console La gente comunque Deve imparare a giocare Sta imparando a giocare Perché il livello Già si è alzato tantissimo E decidiamo di andare su A Smoke Sempre per Precauzione Perché non si sa mai Killjoy qua Mette la ult Quindi già stava su A Quindi già lo sapeva Quindi ho fatto benissimo A mettere le smoke Infatti Essere la smoke Lo uccido Qua Vado indietro Non mi aspetto Minimamente ragazzi Un avversario dietro Ulto perché Fortunatamente Ho la ulti L'avversario Per rincorrermi Probabilmente Mi uccideva al 100% E' morto Invece Se ci faceva i cazzi suoi E aspettavo Quei 10-15 secondi Probabilmente Ce la faceva E Soprattutto Poteva anche Disindicare E vincere il round Qua ci troviamo In 12-10 Quindi l'ultimo round Per noi Match point Decidiamo di andare Subito a tutti i mid Infatti Prendono subito Una kill Vi ricordo Che se usciamo In 4 Magari muore uno Ma quello Contro muore al 100% Qua decido Di mandare Il loro avanti E di mirare La smoke Perché probabilmente In quella smoke Si può mettere Un nemico In questo caso Non lo fa Ma esce direttamente In top mid Però Stava anche In quella smoke Come vi ho appena detto E Me ne prendo due Siamo su 12-10 3 contro 1 In questo caso E Kaido Se ne porta A casa tutti Ho fatto 40-22 Ragazzi Vi giuro Che sono tantissime kill Io vi ricordo Di mettere Like al video Di iscrivervi Alla beta Qui sotto E di soprattutto Di lasciare un commento Se vi piacciono Questi video Un bacio E al prossimo video Ciao